Facciamo degli esempi, esempio 1, f di x uguale x quando x è compreso tra 0 e 1. x è 0, qua mettiamo tra 0 e 1 il fune escluso, altrimenti, qual è il grafico di questa funzione? Questa funzione ha un grafico fatto così, qua è 0, il 1 vale 1, fuori dell'intervallo 0, 1 vale 0, siamo nella situazione richiesta dalla definizione di intercapita secondo rima, certo la funzione è limitata, compresa tra 0 e 1, ed è nulla fuori dell'intervallo 0, 1 e 1. Allora, come vogliamo fare per trovare delle funzioni in s- e trovare delle funzioni in s-? Io scrivo il mio intervallo 0, 1, lo scrivo così come fisso 1n, numero naturale, faccio 0, vado a 1 su n, poi faccio unito, 1 su n, 2 su n, unito, 2 su n, 3 su n, unito, quale sarà l'ultimo intervallino? questo se preferite questo è 1-1 su n, cioè sarebbe a dire questo è il mio intervallino segno aperto a destra, chiuso a sinistra e aperto a destra, cosa faccio? Lo divido in n pezzetti, diciamo della stessa lunghezza, non mi è perduto molto bene però, diciamo che adesso siamo della stessa lunghezza, ok? in questo caso per esempio i pezzetti sono 7, 0, 1 settimo, 1 settimo, 2 settimo, 1 settimo, 1 su n, 2 su n, 3 su n, 4 su n, 5 su n, ecco, andiamo a vedere tra i-1 su n e i su n, la funzione vale x, quindi nel punto i-1 su n vale i-1 su n, nel punto i su n vale i-1 su n, qua la i non c'entra niente con la i di, chiamiamolo h, h-1, h, questo è h, e questo è h, ok? quindi la mia funzione come la posso scrivere? cioè se voglio approssimare la funzione dal basso e dall'alto come la posso fare? dall'alto prenderò il valore h-1, dal basso scusate, h-1 su n, dall'alto prenderò il valore h su n, su questi intervallini, quindi la mia f sarà compresa tra chi? adesso devo fare, dall'alto ci devo mettere h su n, dove, su quale intervallino? sull'intervallino che va da h-1 su n fino ad h su n, o no? su questo intervallino, i valori dell'intervallino sono minori di questo, ma siccome la f di x è uguale a x, quindi sono minori di questo, e invece saranno maggiori di h-1 su n, sempre sullo stesso intervallino, chi di h-1 su n, h su n, questo vale su quell'intervallino, questa cosa la devo ripetere per tutti gli intervalli, e fare la somma, cioè la somma va per h, allora, qual è il primo intervallino? Quanto vale qua h? h, se ci fate caso h deve essere uguale a 1, perché h-1 fa 0, h fa 1, 1 su n, se ci mettete h uguale a 1, viene 0 su n, 1 su n, h è parte da 1, quando arrivo qua, quanto vale h? n, la stessa cosa da questa parte, ok, allora, chi sono le due funzioni che abbiamo ottenuto? sono queste due funzioni qua, questa è quella di sotto, la f sta in mezzo tra quella di sotto e quella di sotto, quella di sotto è una funzione a scaviglio che si scrive così, quella di sopra è una funzione a scaviglio che si scrive così, ora, vediamo se avete capito qualche cosa, in realtà, perché, per come ho costruito io le due funzioni a scaviglio, minoranza e maggioranza, una delle due disuguaglianze è stretta, quale? una delle due disuguaglianze può anche essere uguale, l'altra delle due disuguaglianze è minore stretta, quale è uguale e quale è minore stretta? allora, andiamo a vedere, per esempio, nel punto 3 su n, la funzione a chi è uguale? a quella di sotto o a quella di duca? quella di sotto, se vi ricordate le funzioni a scaviglio sono sempre continue a destra, quindi il valore della funzione è, quindi nei punti di discontinuità, la funzione è uguale a quella di sotto, e non è mai uguale a quella di, quindi, abbiamo queste due disuguaglianze, una disuguaglianza, però se vale questa vale anche quella con maggiore uguale, non succede niente, se dico e scrivo così è corretto uguale, però se voglio essere preciso, mi stai sbagliando sempre, e se, ok, allora, allora questa qua la chiamo phi con n, questa la chiamo psi con n, per quale motivo? beh, innanzitutto dipende da n, poi questa sta in s meno, questa sta in s più, questa è una funzione a scaviglio migliore a, questa è una funzione a scaviglio maggiore a, quanto fa l'integrale di phi con n? beh, questa è una definizione, ma potreste anche dettare, chi è? chi viene? somma, per h, che va da 1 a n, di h meno 1 fratto n, per la lunghezza di questo intervalino, quanto è lungo questo intervalino? 1 su n, quindi qua mi viene, 1 su n quadro che porto fuori, per la somma per h che va da 1 a n, di h meno 1, questo è uguale a 1 su n quadro, per la somma per k che va da 0 a n meno 1, questo qua lo chiamo k, quindi k va da 0 a h1 meno 1 fa 0, a n meno 1 di k, quindi questa è la somma dei primi a n meno 1, sono numeri naturali, che k uguale a 0, quindi questo è 1 su n quadro, quanto fa la somma dei numeri da 0 fino a n meno 1? se vi ricordate fa n per n meno 1, mezzi, allora una n si semplifica, questo qua viene, n meno 1 fratto n fratto 2 o, giusto per non saperne leggere le spiglie, se faccio sto limite per n che tende a infinito, quanto tende? a 1 mezzo, quindi questo è esattamente, più precisamente è 1 mezzo meno 1 su 2 n, per quale motivo è 1 mezzo meno 1 su 2 n? lo volete? cioè, l'area di questo triangolo quant'è? base per altezza diviso 2, se voi andate a fare l'area di ciascuno di questi triangolini, quant'è l'area di uno di quei triangolini? 1 su n per 1 su n diviso 2 fa 1 mezzo n quadro, ma i triangolini sono n, l'area di tutti quei triangolini fa 1 mezzo n, quando tu vai a fare, diciamo, l'integrale di F1, fai l'integrale del triangolo grande, meno l'area dei triangolini piccoli, e quindi, geometricamente ci troviamo, fa 1 mezzo meno 1 mezzo, andiamo adesso a fare l'integrale di psi con n, quando vado a fare l'integrale tra meno infinito e più infinito di psi con n, che è stata là, in S più, questa è la somma per h che va da 1 a n, stavolta di h su n per 1 su n, e qua vuol dire, che stavolta dall'alto il valore normale è h-1 su n, vale h su n, quindi, questo viene 1 su n quadro, per la somma per h che va da 1 a n, di h, stavolta la somma devo fare non dei numeri da 0 a n-1, ma dei numeri da 1 a h, e quanto fa n per n più 1 mezzi fratto n quadro, cioè fa 1 mezzo più 1 mezzo n, 1 su 2 n quadro fratto 2 n quadro fa 1 mezzo, per quale motivo? perché stavolta io sto calcolando l'area del triangolo grande più l'area di questi triangolini piccoli, che sono equivalenti a quelli di sotto, quindi stavolta invece di togliere 1 mezzo n, approssimando dall'alto avrò 1 mezzo più 1 mezzo n, che vuol dire, quanto vale, l'integrale tra meno infinito e più infinito di f di x di dx, questa funziona qua, poi vedremo che sarebbe l'integrale tra 0 e 1 di x, perché fuori di 0 e 1 la funzione è nulla, questa funzione qua, che integrale c'ha? 1 mezzo, per quale motivo? Allora, se vi ricordate, vi ricordate qui, che la condizione per l'integrabilità, che per ogni x non esiste, una due funzione a scalino, una minorante o una maggiorante, che è tale che l'integrale la differenza sia piccolo? Certo, prendete x, prendete n è abbastanza grande, quando andate a fare la differenza di questi due integrali, quanto vi viene? 1 mezzo per 1 mezzo se ne va, 1 su 2 n, meno meno 1 su 2 n, fa 1 su n, ma se prendete n è abbastanza grande, 1 su n è meno 10, che vuol dire la funzione del mezzo è integrale, ma adesso, se fate l'estremo superiore degli integrali su s-, deve essere più grande di ogni valore che sta in s-, in s- ci stanno anche questi valori, ma questi valori tendono a 1 mezzo, quindi l'estremo superiore degli integrali, degli integrali delle funzione del scalino è s-, quindi l'estremo superiore di a- deve essere maggiore o uguale di 1 mezzo, l'estremo inferiore dei valori in a- deve essere minore o uguale di 1 mezzo, siccome l'estremo inferiore di sopra è maggiore o uguale all'estremo inferiore di sotto, devo per forza fare il mezzo, cioè da sotto non potete, non può essere meno di 1 mezzo, da sopra non può essere più di 1 mezzo, ma quello da sopra è più grande di quello da sotto, e quindi viene tutto quanto qua. è chiaro? se volete lo metto per iscritto, mettiamo per iscritto che è meglio, verba vola e scritta maggiore. Allora, io sto dicendo, sup di a- sup di a- è maggiore o uguale dell'estremo superiore di 1 mezzo, meno 1 su n, al variare di n appartenente a n, perché questi sono tutti valori che stanno in a-, ma questo qua, è l'estremo superiore di una successione monotona crescente, che quindi è il limite, e quindi fa 1 mezzo, ma questo è minore o uguale dell'inf di a più, che è minore o uguale dell'inf di 1 mezzo, più 1 su n, la variare di n appartenente a n, ma questo fa 1 mezzo pure lui, quindi questo fa 1 mezzo, più grande di questo, che fa 1 mezzo pure lui, se lo fa tutti e due, che vuol dire che l'integrale di quella funzione fa 1 mezzo. Allora, come abbiamo fatto per dimostrare che l'integrale della funzione fa 1 mezzo? Praticamente, mica abbiamo fatto proprio l'estremo superiore di integrare su tutti, basta farlo su delle funzioni, su una successione di funzioni da sotto e da sopra, in maniera tale che l'integrale da sotto e da sopra devono convergere allo stesso limite, perché? Perché se lo faccio su una successione di funzioni da sotto, che l'integrale converge a 1 mezzo, questo qua deve essere più grande di questo, se lo faccio su una successione di funzioni da scarico da sopra, tale che l'integrale converge a 1 mezzo, questo qua deve essere più piccolo di quello, ma siccome quello di sopra è più grande di quello di sopra, viene tutto qua. Chiaro? Allora, vediamo un po' se avete capito questo schema, ora lo rifacciamo, dobbiamo farne altri due di questo schema, 1, un po' velocemente perché si sta avvicinando, prendiamo adesso la funzione x quadro, se la mia funzione x quadro tra 0 e 1, cosa cambia? Beh, quello che cambia è che stavolta, stavolta, se io vado tra h meno 1 su n e h su n, chi sarà il valore da sotto? Allora, questo qua rimane sempre vero, ma chi sarà il valore da sotto e chi sarà il valore da sotto? Secondo voi? Beh, siccome la funzione vale x quadro ed è monotona, da sotto varrà h meno 1 su n a quadrato, e da sopra, da sopra, su questo intervallo qua, varrà h su n al quadrato. quindi la mia f sarà compresa, sarà compresa tra la somma per h che va da 1 a n di h meno 1 su n a quadrato, è la funzione caratteristica dell'intervallo h meno 1 su n. e da sopra, la somma per h che va da 1 a n di h su n al quadrato, che è la funzione caratteristica di h meno 1 su n, come prima, semplicemente invece di metterci x ci metto x quadro, siccome la funzione è monotona crescente, qua ci metto x quadro ed è il valore più piccolo dell'intervallo, qua ci metto x quadro ed è il valore più grande dell'intervallo. è chiaro? la funzione sta crescendo e è meno uguale del valore della funzione qua ed è maggiore uguale del valore della funzione qua, su quell'intervallo. è meno uguale del valore della funzione sull'estremo di destra ed è maggiore uguale del valore della funzione sull'estremo di destra. ora, quando vado a fare questo integrale cosa mi viene? mi viene somma per h che va da 1 a n, h meno 1 quadro fratto n quadro per 1 su n come prima, quindi mi viene 1 su n cubo per la somma per k che va da 0 a n meno 1 di k quadro, 1 su n cubo si porta fuori, h meno 1 lo chiamo k, e stavolta viene la somma dei quadrati dei primi n meno 1 un numero di ambrati, se vi ricordate questo fa 1 su n cubo, poi mi viene fa n meno 1 per n per 2n meno 1, se vi ricordate la forma era sesti, la forma è n per n più 1 per 2n più 1 sesti, però dobbiamo fare con n meno 1, n meno 1 per n per 2n meno 1, se la faccio da sopra, l'integrale tra meno infinito e più infinito di psicone n, questo è psicone n, x in x farà similmente 1 su n cubo la somma per h che va da 1 a n di h quadro, quindi stavolta fa 1 su n cubo, qua mi viene n per n più per 2n più, sesti, a quanto converge questo? questo? n, n, 2n, quello che conta qua è 2n cubo, fratto 6n cubo? 1 terzo, 1 terzo, e da sopra? n per n per 2n, 2n cubo fratto 6, siamo 1 terzo, solo che questo ci converge da sopra e questo ci converge da sopra, che vuol dire? vuol dire che l'integrale di questa funzione qua, tra meno infinito e più infinito, quanto fa? 1 terzo, cioè, poi vedremo che sarà l'integrale di x quadro in dx tra 0 e 1, qua l'abbiamo fatto con le mani e con i piedi, è chiaro che non possiamo andare avanti così per tutte le funzioni, che se no ci mettiamo mezz'ora per ogni funzione è anche la più elementare, per integrare, allora, la prossima volta vedremo il teorema fondamentale del calcolo integrale, prima vedremo che le funzioni di condizione sono sempre integrabili, poi vedremo il teorema fondamentale del calcolo integrale che ci aiuta a fare gli integrali delle funzioni, però, prima di fare questo, voglio andare a dare l'ultimo esempio, che è quello di una funzione non integrabile secondo lei, allora abbiamo questa funzione qua, quindi questo era l'esempio 2, perché la funzione era x quadro, questo è l'esempio 3, allora abbiamo f di x uguale a 1 se x appartiene a 0,1 intersecato 1, 0, altrimenti, quindi come fa il grafico di questa funzione? questa funzione la chiamiamo funzione di Dirichlet, questa funzione qui, la 0 e 1, vale 1, ma soltanto sui punti razionali di 0,1, qui vale 1, ma vale anche 0, il problema è che un grafico vero di questa funzione non si può fare, perché sia i numeri razionali di 0,1 che i numeri razionali sono entrambi densi nel interpallo 0,1, quindi che succede? il problema è che adesso se andate a fare l'estremo superiore di a meno, quanto vi viene? vi viene 0, perché? allora qua la funzione che sta sotto deve essere non positiva, qua la funzione che sta sotto deve essere minore o uguale di 0, ma pure qua deve essere minore o uguale di 0, perché appena la vado a prendere positiva su un intervallino, che succede? in questo intervallino ci sono dei punti non irrazionali, e non è possibile perché sui punti razionali la funzione vale 0, quindi se fi appartiene a s meno, questo vuol dire che fi è meno uguale di 0, questo mi dice che l'estremo superiore di a meno viene meno uguale di 0, adesso se fi invece appartiene a s più, questo mi dice che fi deve essere maggiore o uguale alla funzione caratteristica di intervallo 0, perché? perché tra tale 1, se io prendo un intervallino, qua la mia funzione deve essere più grande di 1, perché in questo intervallino cambiano i punti razionali, nei punti razionali la funzione vale 1, su cui intervallino la funzione è costante, questo che cosa mi dice? che l'estremo inferiore di a più deve essere maggiore o uguale a 1, in realtà è uguale a 1, io ho solo dimostrato che è maggiore o uguale a 1, così posso dimostrare io, chiaro? quindi che significa? che questa funzione è chiaro che si tratta di una funzione altamente irregolare, cioè questa funzione che in ogni intervallino, diciamo sotto intervallino di 0,1, intervallino a fi contenuto di 0,1 con a migliori di b, ha sia dei valori 0 che dei valori 0, ok? quindi salta continuamente da 0,1, però chiaramente da sotto posso approssimarla con 0, da sopra posso approssimarla meglio con 1, quindi cosa mi succede? che l'estremo inferiore della classe integrale delle funzioni di scalino minoranti non coincide con l'estremo inferiore della classe integrale delle funzioni di scalino maggioranti, qui, questa, questa qua, non appartiene, non è integrata secondo Riemann, è l'esempio più semplice che si può dare di una funzione non integrata secondo Riemann, chiaramente è complicato però in realtà è tutto sommato apportamente, chiaro? ok, quindi il programma per la prossima volta qual'è? trovare un modo, prima di tutto identificare delle classi di funzioni che sono sicuramente integrabbi in secondo Riemann e lo vedremo, saranno per esempio le funzioni continue, continue e nulle fogliere intervalline, e poi vedere se c'è un modo che ci aiuta, e questo sarà il tema fondamentale del campo interno. grazie